Siamo errati? Sì, sta per entrare in campo burruto, viene sostituito Angelo Idà, ha dato tutto questo giovane calciatore, buona la sua partita, mi è piaciuto nelle ultime uscite Angelo Idà perché combatte, come dicevo un tempo una canzone, lotta, cade, si rialza e... Ancchio perché Varenne, Ribbo e Roccapin sono tre cavalli molto pericolosi nella formazione dallo stretto. Attenzione c'è una rete fantasma! Un grandissimo gol di Caraccio, l'hai visto? Chissà se lui ci sente, prima lo ho criticato, improvvisamente su pallone di Borruto che gli offre una palla smarcante, un assist, veramente è appena entrato il giovane Borruto, ha offerto un pallone a Caracciolo appunto, il quale vedendo il portiere un po' indeciso oggi Sarica fuori dalla porta, con un tocco davvero magistrale, un bel tiro di destro, un interno destro a rientrare, è riuscito a mettere la palla in rete e a chiudere ormai definitivamente la partita sotto l'aspetto dei tre punti. La Melitese sicuramente ormai vincerà questo incontro, 4-1, il gol è bellissimo, cominciano i cambi, la girandola dei cambi.